L'Appennino abruzzese è a rischio forte per caduta valanche. Lo comunica la Protezione Civile Regionale e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato. L'ondata di maltempo che ha colpito l'Abruzzo ha comportato infatti l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve precedentemente compattate e già trasformata. Questa condizione del manto nevoso provoca un aumento dell'instabilità di pendi montani caratterizzati da accumuli di neve con diversa consistenza, umidità e temperatura. I rilevamenti del servizio Meteomont del Corpo Forestale della Regione Abruzzo hanno infatti evidenziato un grado di pericolo 4 su 5, forte, per caduta valanche sul comprensorio del Gran Sasso e della Maiella. Già da questa mattina sono stati osservati sul territorio montano regionale diverse cadure di valanche. Una in particolare nel territorio del Comune di Pacentro ha provocato l'interruzione della viabilità sulla strada provinciale Marrucina senza fortunatamente causare danni a persone o cose. Il rischio è comunque forte su tutti i pendi caratterizzati da una pendenza superiore ai 30 gradi e in particolare dove la copertura boschiva è particolarmente rada o assente.